Musica Lunedì 30 luglio, ben ritrovati con il nostro telegiornale. Da mercoledì, come annunciato, cambia la guida della Questuro di Vercelli. Rosanna Lavezzaro, attuale questore, lascia il comando a Sergio Molino, già vicequestore di Torino. Rosanna Lavezzaro manda questo saluto ai vercellesi. Lascio con profonda commozione l'incarico di questore della provincia di Vercelli ed in questa occasione è mio grande desiderio rivolgere un saluto affettuoso ai cittadini del territorio nel quale ho trascorso poco più di due anni. Ed è stato un periodo gratificante, molto significativo per la mia crescita professionale, essendo stata la provincia di Vercelli la mia prima sede in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza. Lascio una questura coesa, motivata e professionale, che conta su una sinergia pressoché assoluta con tutte le istituzioni cittadine e questo è per me motivo di grande soddisfazione. Credo profondamente che gli incarichi vanno e vengono, scusate l'espressione lessicale corrente, quel che resta invece è il ricordo della qualità delle persone. Nel congedarmi dunque mi piace prendere in prestito la frase di un illustre vercellese, l'avvocato Dario Casalini, il quale scriveva Cos'altro sono le città se non le persone? Un grazie sincero, Rosanna Lavezzaro. A Vercelli, per il periodo estivo ed esattamente nelle giornate tra il 2 e il 18 agosto, la sosta nelle aree blu cittadine sarà gratuita. L'ordinanza è emessa dal sindaco come ormai ad ogni inizio estate. L'obbligo di pagamento riprenderà lunedì 20 agosto. Stessa consuetudine anche a Casale Monferrato, qui tutti gli stalli blu non saranno a pagamento da martedì 7 agosto fino a sabato 18 agosto compresi. La motivazione è da ricondursi al fatto che durante le due settimane centrali del mese di agosto si riscontra la chiusura di buona parte degli esercizi commerciali del centro storico e quindi non è necessario assicurare il turnover dei veicoli in sosta. La normale tariffazione riprenderà da lunedì 20 agosto. E adesso un attimo di pauso, ci rivediamo per lo sport. Amichevole ieri al Piola di Vercelli per la Pro di Mister Grieco. Le bianche casacche hanno vinto facilmente 6 a 1 contro l'Albissola 2010. Al termine della gara il nostro Paolo Gaglione ha sentito Patron II. Presidente Massimo II, una lunga estate calda e ancora non si sa niente. Ma sì, non si sa niente. Credo che questo sia il sintomo un po' del disastro che è oggi il calcio nazionale. Il primo di agosto c'è questa udienza di secondo grado. Vedremo cosa dirà il Tribunale. Credo che in ogni caso non sarà nulla di definitivo quale che sia la decisione assunta perché chi perderà questo grado di giudizio andrà comunque a vedere le carte in terzo grado. Io mi auspico al di là di tutto, al di là della Pro Vercelli che è la sentenza poi definitiva sia quella che premi le squadre che si sono comportate in maniera corretta e non quelle che hanno compiuto gli decidi amministrativi più o meno gravi perché adesso obiettivamente non credo sia possibile, anche se per me si tratta di un derby, mettere sullo stesso piano il Novara e il Catania. E' terminata 5-0 la prima amichevole per il casale calcio di Mister Buglio. Avversari gli stei o parti, seconda squadra cittadina ne ho promosso in prima categoria. Il casale calcio proseguirà gli allenamenti dividendosi tra lo stadio Natale Palli e gli impianti sportivi di Terranova ed il nuovo campo sintetico al Bianchi di Oltreponte. I prossimi impegni per stagione vedranno i nero stellati impegnati sempre sul campo di casa giovedì 2 agosto alle 17 contro il team Lombardia e sabato 4 agosto alle 17 contro l'Albisola 2010 con pagine Ligure di Serie C. Bene, per oggi è tutto, appuntamento a domani con il nostro telegiornale.